Buongiorno amici dronisti, sono Giuseppe e sono qui per condividere con voi le mie esperienze nell'ambito dei droni, della grafica, delle fotografie e degli accessori, delle attrezzature che noi utilizziamo per divertirci. Oggi cosa facciamo? Unboxing. Cosa vuol dire? Spacchettare, tirare fuori quello che si è comprato come accessori per la propria attrezzatura. Partiamo allora con il classico spacchettamento. Ecco cosa ci troviamo dentro al pacco. Certo che Sony Life è riuscita a far stare dentro a un pacchetto così piccolo tutti gli accessori che ho comprato e che non vedevo l'ora di ricevere. Andiamo a vederli uno per uno. L'acquisto in Cina è stato dovuto dal fatto che ho visto gli accessori in internet, non li ho trovati sulle maggiori piattaforme commerciali e mi sono deciso a rischiare acquistando all'estero. Il pacchetto è stato ordinato il 7 ottobre, arrivato in Italia il 4 di novembre. Per come siamo abituati ad oggi, i tempi sono un po' lunghi, ma devo dire che probabilmente quello che è arrivato ci soddisferà. Ed eccoci pronti con quello che c'era dentro il pacchetto. Questo video non è sponsorizzato, quindi riferimento alle ditte è solo per darvi un'indicazione di dove ho comprato, perché se vi piacciono gli accessori andrete a cercarli e ad acquistarli. La ditta che fornisce questi accessori è la Sony Life. In particolare io sono possessore del Mini 3 Pro, DJ Mini 3 Pro, un drone che ormai quest'anno ha spopolato e mi sono fatto convincere nel comprare un proteggi gimbal e sensori anteriori. L'accessorio naturalmente arriva bello impacchettato, protetto e anche se è arrivato dalla Cina devo dire che si mantiene bene. Andiamo a vedere come montarlo sul nostro drone. Prendiamo il nostro drone, andiamo a vedere se calza perfettamente. Ed mi sa che è proprio il suo. È proprio il suo, nel senso che la ProJet Gimbal va, si incastra perfettamente e va a coprire benissimo quello, non so se lo notate, sia i sensori anteriori che il gimbal. Se posso far notare la differenza tra questo e questo protegge il gimbal, naturalmente è un po' più invasivo, ma è anche molto molto più protettivo per quando lo inserite all'interno di una borsa per il trasporto. Passiamo al secondo accessorio, accessorio sempre della Sony Live, che non è altro che un paraeliche. Anche in questo caso il pacchetto arriva più che completo, l'accessorio arriva bello protetto e riposto nel suo contenitore. Nulla di eccezionale, un bel gommino di gomma e un accessorio che va a inserirsi sotto il drone. Andiamo a vedere come si installa. Riprendiamo il mio drone, dove ho installato l'accessorio precedente, e andiamo a vedere come si incastra questo nuovo paraeliche che, a differenza di quello precedente, se vedete, non fa altro che proteggere anche i sensori inferiori. Quindi questa serie di accessori va a proteggere in modo adeguato, più che adeguato, sia le eliche sottostanti, le eliche sovrastanti, e soprattutto completa la protezione dei sensori, che durante il trasporto si potrebbero sporcare, graffiare e via dicendo. Diciamo che già questi due primi accessori valgono quello che ho fatto, cioè la spesa lontana e la lunga attesa. Prima di passare dagli accessori che ritrovo fantastici, faccio un'apertura della scatola che mi consentirà il trasporto delle batterie durante i miei valgi in aereo. Super prodotto, guardate, semplicissimo e proprio fatto con una buona fattura. Le batterie, adesso ne inserisco due perché la terza ce l'ho naturalmente inserita nel drone, stanno perfettamente nell'alloggiamento, è curato fino al dettaglio con una serie di strappa ed ecco qui la borsettina da inserire nella nostra borsa di trasporto che ci consentirà di salire in aereo senza problemi. E passiamo al penultimo accessorio, quello che mi ha fatto sbalordire. Lo cercavo, non lo trovavo sui canali tradizionali, questo è un proteggi telecomando RC. Anche in questo caso la confezione è bella curata, non so se notate ma non è la solita cinesata. All'interno l'accessorio è ben protetto, il materiale sembra di buona fattura, curiosissimo, mi sa che lo vado a installare subito. Dove lo installo? Ed ecco qua, lo installo sul mio telecomando RC del DJ My R3. E questo proteggi telecomando è una genialata. Due piccole vettine che sono date in dotazione vi consentono di attaccarlo dietro, ci consente di proteggere il telecomando con i joystick inseriti, quindi si può mettere dentro la valigetta senza avere paura di rovinarli. E in più, è in più aperto a due regolazioni, la prima regolazione e la regolazione un po' più inclinata che consente di fare la para schermo, cioè vuol dire contro ombra sul display in caso ci sia particolarmente sole. Non impedisce nessun tipo di movimento, lascia libero anche i due bottoncini per la programmazione personale del telecomando. Decisamente un bel attrezzo. Se posso dire qualcosa, forse il materiale potrebbe essere migliorato. Chiaramente la forma invece è eccezionale, aderente e compatibile al 100% con quello che è il nostro telecomando. Adesso andrò a inserirlo all'interno della borsa classica del pacchetto Combo e vediamo come ci sta. Et voilà, prendiamo la borsa classica del Combo Mini 3, andiamo a inserire quello che è il nostro drone con protezione delle eliche e dei sensori e andiamo a introdurlo nel suo alloggiamento. Si vede che non ruba spazio, gli accessori non rubano spazio. Interessantissimo è anche il fatto che all'interno della stessa borsa si riesce a inserire tranquillamente anche il telecomando con i joystick inseriti. Perfetto. E le due batterie di riserva. Naturalmente all'interno ci starebbero anche altri accessori, ma noi andiamo a inserire questi tre elementi. Adesso vi farò vedere l'alloggiamento. L'alloggiamento è perfetto, ci sarebbe anche la possibilità di mettere la stazione di ricarica. Non c'è un'occupazione di spazio aggiuntivo e il drone e il telecomando risultano stra protetti. L'ultimo prodotto che mi è arrivato, naturalmente non potrò provarlo oggi, andrò a vedere come sta negli alloggiamenti e ve lo farò vedere appena lo userò nelle prossime avventure e nei prossimi voli. È un kit di sei filtri, non saprei dirvi di che qualità, andremo a vedere e a verificare nei prossimi voli. E adesso un po' di conclusioni, una piccola nota commerciale, è valsa la pena o no? Beh, a parte la sorpresa del trasportatore italiano che mi ha fatto pagare lo sdoganamento, e questo ha inciso un pochino sulle spese, devo dire che sono molto soddisfatto. Gli accessori che ho comprato sono unici, non li ho visti nei canali commerciali tradizionali, quindi in particolare il proteggi gimbal con proteggi sensori, proteggi telecomando, non l'avrei trovato da un'altra parte e secondo me è valsa la pena aspettare questo mesetto fino al loro arrivo. Vi aggiornerò in futuro su come vanno, se si mantengono efficienti o se tra poco dovrò ricambiarli.